questo il calibro è 80 più no lui si riferisce al tuo costume e questa è quasi rossa questa la prende mi piace anche questa mi piace mi piace massimo sono buonissime per finale sonia per il tuo gestione ma queste fino a domani diventano rosse france non è vero non vorrei approfittare sfacciatamente se ne sta leccando le dita sono veramente buone dobbiamo ringraziare il signor Franco le foglie sono leggermente diverse leggermente diverse grazie 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 grazie